tempo fa, tempo fa, ho fatto dirgli, visto che è un amico tuo, ho fatto dirgli da quanto mi conosce il pappa, da quando mi appennevo i gru, 4-5 anni fa, il pappetto mi stanno a nominare, ma è il suo culo, la merda mia, siccome il pappa devi stare molto attento al pappetta, perché se lo fai in cazzare il pappetta, devi stare molto attento quando valli col pappetta, capisci? Ti ripeto, il pappetto è l'amico suo, se sei un amico tuo. Ah, io pure, io pure. Certo, hai detto che sei un amico tuo. Come no, come no, io sono un amico del pappetto. Lascia perdere, lascia perdere, che voi stai di una mania di cazzare, sei pentito, sei pentito, sei pentito, sei farcone e borsellino sei, farcone e borsellino. Ah, io sono farcone e borsellino, te sei in questione sei, tu sei una merda sei. L'hanno già fatto fuori a te, già te l'hanno fatto fuori perché creavi troppi problemi. A me l'hanno fatto fuori. Da dove? Da dove l'hanno fatto fuori? Tra un po' ti fanno fuori pure da casa, te lo dico io. Ah, buzzo. Ti parli con me, ti parli bene, parlami bene. Ma tu devi parlare bene. Parlami bene, che quando ti dico le cose, ti stai zitto e ti stai zitto. Ti stai a scureggio, capito? Ne faccio solo che scureggio addosso. Ti faccio solo che scureggio addosso, ti arriva la merda. Devi solo stai zitto. Oh, quando ti metti, ti devi stare zitto. Oh, ah sì, ah sì. Oh. Eh, io lo sto a dire. Io lo sto a dire, io lo sto a dire. Ma non è il pappavere, sono profili farsi. No, 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 no. Non mi dà, non mi dà, non mi dà il pappavere, sì. Ora sto scemo, va. Va, eh. Bravissimo. Arriveranno il pappavere, gli arriveranno a chi, devono arrivare. E io sono qui, e lo sto dicendo, e lo ripeto. Mica mi mangio le parole, io, eh. Falle entrare, vedi che... Falle entrate. Sì, ma non c'è, chi faccia entrare? Qualcuno, l'anima sua, faccia entrare. Chi faccia entrare? Chiara un po', miro, la serie un po' è un... Fa mai la chiamata. Oh. Qua, tra cinque minuti sta diretta, finisce. Vaga, vaga, che cazzo è un mera. Vabbè, tanto tu mi hai garantito, tu mi hai garantito che lì in domani non si sa quanto. Garantisco io per pappa. Garantisco io per pappa. Eh? Garantisco io per pappa. Capito? Siccome parlai di male per pappa... Ma io e pappa, tanto la dobbiamo risolvere questa situazione. Prima o poi, la diretta con pappa, ci sarà, ci sarà. Bravissimo. Questa, questa cosa qui, è una cosa che smuoverà quello, capito? Certo. Perché ora il pappa dopo te romperà il culo, vedi? Certo. Il pappa te mela per me. Te dica la verità, il pappa te mela pure. Vabbè, prima ne possiamo parlare in diretta, poi vediamo dove va a finire il discorso, no? Però, no, ascia a perdere i discorsi, frate, io non è che te sto a dire, tenga a meno io, perché te per me sei una cacca, lui devi schiaffa. Però te sto a dire, col pappa la ti risolva a mani, secondo me, perché è una tentativa, una bella litigata col pappetto. Per me non ci sono problemi, figurati, figurati. Ah, ok, 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 perché non lo volevo capire. Per me il pappa è un moscardino, capito? Un moscardino. Ah, eh, quanto ti sei regolato. È un carcino, capito? Non si va a far passare il pappetto, questo. Pappetto, io ti ripeto, tu sei un moscardino. Tu parli, parli. Dici che vuoi fare la diretta, dici che vuoi parlare, ma tu le palle di parlare in diretta, non le hai. Ma scusa, ma perché però gli dice così? Ma perché gli dice così a pappetta? Perché è la verità. Eh, ma lui, lui, però non ti ha mai detto niente a te. Che c'è entrato? Come non mi ha mai detto niente? Ha detto che mi spara. Ah, allora, vedi, allora, vedi, allora lo sapevo bene. Ma è una pippa, però, non aveva finito la frase. Sì, sì. Oh, tanto prima o poi, tu lo stai provocando, io lo sto provocando prima o poi, e il topo esce dalla tana, capito? Ma io non lo so a provocare. Ti metti il formaggio davanti al buco, dalla tana. Io non vedo l'ora che casca nella trappola, io non vedo l'ora che la trappola ci chiude e il pappetto e il topolino viene chiuso dentro, capito? Io non vedo l'ora, non vedo l'ora di parlare con pappa in diretta. Vedi che te stanno a scrivere, l'orizino ti ha scritto, sei pure infame. Vedi che c'è stata gente che cosa sa che sei infame? No, non è così, non è così. Eh sì, eh sì, eh sì, quindi io ho una moda, ma lascia perdere perché a Navità infami campano, per me si ammazzano manco più infame, non è come una corta, quindi c'è spiega un'infame. Però volevo dire, se te sei infame, stai al posto tuo e dici, raga, ogni volta inizia la diretta, perché sennò dopo vi è bastonato, perché ti fa colore e ti dico io, perché sei il cane mio. Ma hai paura il pappa? Ogni volta che inizi la diretta, devi dire, ragazzi, io sono infame, sono pentito, faccio bene le persone. Hai paura, pappa? Cosa? Tu hai paura di pappa? Io ho paura del pappa, il pappa è un amichetto mio, non fa queste cose, non fa queste cose, perché noi vogliamo bene al pappa, noi se potremmo gli fanno paio i video, gli diamo pure i soldi al pappa, non c'è problema. Allora, che fai? Attenti se mi fulamo, fratello, attenti se mi fulamo, fratello, attenti se mi fulamo, faccio le chiappe mia. Vabbè, tu ti stai garantendo che non oggi, però in futuro, con Pappetto ci sarà questa diretta dove io e lui possiamo parlare. Ma è normale, è normale. È normale. È normale. Aspetta, fermati, tu ti pensi che il pappa sia pure te? Io non voglio, non voglio in cui ti muore a nessuno, capito? No, 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 io sto dicendo solo che voglio che lui entri in diretta e che mi ripete in diretta, non dietro una storia, perché dietro una storia siamo tutti fuori. Però non voglio che mi ripete in diretta quello che lui ha intenzione di fare. Niente di più, niente di meno. Ok, perfetto. Però tu allora su che base dici che lui ha detto che tu volevi sparare queste cose qua? Le basi che lui lo sa, lui lo sa. Tu, 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 tu lo sai che adesso te stai a infamare la persona? No, io non sto infamando nessuno. È certo, è certo. No, io sto dicendo la verità. Eh, la verità? Ah, quindi te quando te bevono e ti dicono, oh, ma che stai a fare quella cosa? Ma che c'entra a essere bevuti con una diretta di Instagram? Tu per bevare la gente? Perché mo per ditte, se guardi vanno a nappiare papà, vanno a nappiare e bevono. Ma perché devono a nappiare i guardi? Che ha fatto? T'ha ammazzato qualcuno? Ma parlando? Ma parlando? Ma parlando? Ma parlando? Ma parlando? Secondo te prima si vanno a nappiare il pappetto che in qua, 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 cosa, tutto il mondo che c'ho pure la mamma che è dalla polizia municipale e non vengono a prendere a me che già sono precedenti. Secondo te, secondo te, secondo te, non vengono a prendere a me che già sono precedenti? Stai a mettere in mezzo anche le madri, non si fa. Non è le madri, stai mettendo in mezzo il lavoro. Perché lo sai com'è la polizia? La polizia tra di loro sono amici, se difendono, se tutelano, no? Alla polizia che c'entramo, qua, il suo capo, l'amici, vale. Io ho la mia madre che c'ha precedenti, ho la mia madre che c'ha precedenti, ho tutta la mia famiglia che ha precedenti, io sono l'unico che c'ha un precedente, però io sono l'unico che c'ha un precedente, effettivo, perché sono stato portato davanti a tutti, e ho tante denunce che mi hanno portato al processo, ma vediamo se ci arriveremo al processo.